Mi chiamo Antonio Frazzitto, ho 41 anni e sono siciliano. Vorrei condividere con voi la mia passione per la moto e per i viaggi in moto. Nel 2016 intrapresi il mio primo viaggio che mi portò ad attraversare la Svizzera, la Germania e la Repubblica Ceca, passando per Zurigo, Monaco di Baviera, Praga, Dresda e Berlino. Nel 2017 invece attraversai tutta la Francia, passando per Dijon, Parigi, Calais, fino a Doveri in Inghilterra. Attraversai tutta l'Inghilterra, passando per Londra, Liverpool con il Museo dei Beatles e Dublino in Irlanda. Poi in Belgio, vedendo la capitale, Bruxelles, Anversa e Bruges. In Olanda, vedendo Amsterdam, i mulini di Kinderdijk, Utrecht. Nel 2018 attraversai il ponte Oreson che mi portò dalla Danimarca alla Svezia fino a Norvegia, passando per Copenhagen e Oslo. Nel 2019 l'Ungheria con Budapest, la Slovenia con Ljubljana e l'Austria con Vienna, Isbruck e Salzburgo. Nell'estate del 2020 finalmente coronai il sogno di arrivare a Caponord, salendo per i fior di Norvegesi, scendendo dalla Finlandia fino a Helsinki, attraversando le Repubbliche Baltiche fino a Varsavia in Polonia. Quale sarà il mio prossimo viaggio? Sei su Viaggiare in Moto.